No, non parlo, non commento oggi a Geseverino perché c'è in corso l'udienza a Roma, quindi parlo dopo, nessun commento, dopo l'udienza. Io faccio un commento approfondito dopo la giornata odierna, quindi appena avrò notizie da Roma dove spero ci sia la definizione del processo d'appello, ovviamente commenterò sia la decisione di cui non ho motivazioni ovviamente, quindi non so gli esatti termini di ieri e sia quello che soprattutto accadrà oggi.